In Oggi Sposi di Luca Luceni si passa da una risata all'altra seguendo le strampalate vicende prematrimoniali di quattro coppie che con un dialogo scintillante ti portano però a riflettere sull'unione per sempre. C'è Nicola, Luca Argentero, poliziotto pugliese, tonverde fam che ha deciso di mettere la testa a posto impalmando la bella figlia dell'ambasciatore indiano a Lopa. Il problema avviene dal padre Sabino, un inedito Michele Placido mai visto in un ruolo così autenticamente comico che qui veste i panni di un contadino vecchio stampo con parecchie difficoltà ad accettare il matrimonio del figlio con Rita Ingu. Finalmente è un film molto divertente, tanto è vero che alla proiezione stampa dove di solito gli applausi scarseggiano la sala applaudito compatta questo lavoro che lungi dal voler dare messaggi riesce a farti passare due ore in allegria in un panorama festivaliero che ben poco ha di divertente.